Due donne e una piccola donna, la figlia di una delle due. Due storie differenti, ma lo stesso coraggio nel denunciare lo stato di terrore che stavano entrambe vivendo. Terrore interrotto grazie all'intervento delle forze dell'ordine e che ha permesso al questore della provincia, Angelo Giuseppe Re, di avanzare al Tribunale di Milano, sezione autonoma a misure di prevenzione, due provvedimenti di sorveglianza speciale nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di condotte violente e vessatorie nei confronti delle proprie compagne. Nel primo caso, ad essere raggiunto dal provvedimento di aggravamento della sorveglianza speciale, è stato un cittadino colombiano residente a Sondrio. Aggravamento perché l'uomo, già responsabile di numerosi maltrattamenti nei confronti della compagna anche durante la gravidanza di lei, era già stato colpito dal provvedimento di sorveglianza speciale che prevedeva, tra l'altro, di non avvicinarsi alla convivente a meno di un chilometro di distanza e non allontanarsi dall'abitazione dalle 22 alle 7 del mattino. L'uomo non soltanto è risultato in varie occasioni assente ai controlli di polizia e carabinieri, ma in un caso si è pure avvicinato all'ex convivente rubandole la borsetta contenente chiavi di casa e cellulare. Nel suo caso è stata prolungata la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo ed è stato disposto l'obbligo nel comune di residenza. È sempre in fatto di protezione delle vittime di violenza di genere, è disposta la sorveglianza speciale anche per un cittadino indiano domiciliato in provincia di Sondrio, che per diversi anni non solo ha posto in essere violenze, minacce e ingiurie verso la moglie, ma almeno in un'occasione anche verso la figlioletta di otto anni con cui si trovava solo in casa. È proprio in tema di reati contro le donne e le vittime vulnerabili alla vigilia della giornata internazionale della donna, importante ribadire una volta di più alle donne vittime di abusi e violenze l'invito a rivolgersi con fiducia alle forze dell'ordine. Certe condotte con l'amore non hanno nulla, ma proprio nulla a che vedere. Grazie.